Siamo partiti dalla musica per esplorare tutto un mondo che è fatto della vita, della terra, del rapporto con la natura. Con i genitori abbiamo organizzato un piccolo orto all'interno della nostra struttura e abbiamo fatto partecipare i bambini a questa esperienza di contatto materiale con la terra e poi di crescita dei piccoli semini. Quindi è chiaro che anche la musica fa parte di questo percorso di vita e di crescita. La natura e la musica i temi intorno ai quali ha ruotata la didattica dei servizi all'infanzia del Comune di Arezzo. I maestri e le maestre di alcuni asili a gestione diretta insieme all'assessore Tanti hanno raccontato l'esperienza dell'orto di Salleo oppure le ore di musica con i bambini in sezione. Da qui, dice l'assessore, parte il nuovo corso del sistema educativo del Comune di Arezzo che avrà il suo anno decisivo nel 2017 quando scadranno i bandi di gestione. Nel mese di luglio per i maestri sono organizzate le ore di formazione in attesa di arrivare alle agognate assunzioni sette in tutto senza le quali il sistema collasserebbe. Dalla Regione Toscana ci hanno rassicurato che entro la fine di giugno dovrebbero aver comunicato al Ministero della Funzione Pubblica il via libera alle assunzioni e io ci credo perché se lo hanno detto non posso che crederci e ci credo quindi che dai primi di luglio si possa attingere. In definitiva noi si può fare subito perché la nostra delibera è datata a primo dicembre 2015 pertanto nel momento in cui si può attingere lo faremo. Il grande reset della sfida educativa della città di Arezzo è datato 2017 per il 17-18 e infatti stamattina abbiamo confermato che la Commissione Consiliare tutta ovviamente quindi maggioranza e opposizione comincerà un percorso di approfondimento in vista del 2017 l'anno in cui tutto il sistema educativo di Arezzo si rinnoverà attraverso nuove bandi essendo scaduti quelli adesso in essere.